Ok, perfetto. La sigla è la solita tutta azzurrina, ecco. Secondo me potete andare, perché questa qui mi sa che è la sigla, eh? Prova, provo, due, tre, prova. Pronto, provo, pronto, provo, pronto, provo. Proviamo qua sopra. Allora, pochi minuti alla diretta del People's Choice Classic, il prologo, l'antipasto del Tour Down Under, l'apertura della stagione 2016. 51 chilometri, 30 giri da 1700 metri, un circuito molto veloce, una volata nel finale, quasi certamente. Rivediamo il replay della vittoria dello scorso anno proprio del tedesco Marcel Kittel. Un dominatore che quest'anno non c'è, molto più aperto, almeno sulla carta, il lotto dei partecipanti. Grazie. 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 Grazie.